L'esperienza della rosa. Se osservo un bocciolo di rosa che allarga i suoi petali lungo lo scandire del tempo, attraverso i miei sensi fisici, noto lo schiudersi graduale della sua corolla. I maestri immateriali spiegano però che tutta l'esperienza della rosa è già presente e racchiusa nel suo stato di bocciolo. Allora perché devo rispettare l'ambiente visto che tutto è già dipanato davanti a me? Commento per l'evoluzione che il rispetto dell'ambiente produce in te.